Sì, allora, Mi Attivo in Comune è questa attività che tramite le politiche giovanili in collaborazione con l'istituzione facciamo per poter portare i nostri ragazzi a visitare e a capire come funziona la macchina amministrativa. In un percorso che viene passato anche come PCTO scolastico, riusciamo a fargli capire come avvengono le decisioni, dove vengono prese le decisioni e partecipando ai vari tavoli, incontrando i vari dirigenti, partecipando alla giunta e partecipando al consiglio comunale, si rendono conto di quello che è il funzionamento preciso della macchina amministrativa. L'obiettivo è quello di portare qualcuno di loro ad interessarsi alla vita pubblica in modo anche di avere un po' di ricambio in quella che è l'attività amministrativa.